A me dispiace tanto per gli italiani che hanno affidato il loro consenso nel 2018 a una forza politica nella quale oggi volano gli stracci. Non vorrei trattare questo argomento perché non sono venuti come spesso accade quando non hanno nulla da dire e penso che potranno partecipare davvero a poche trasmissioni perché di quello che avevano raccontato agli elettori non è rimasto niente. Avevano detto che non si sarebbero alleati con nessuno, si sono alleati con tutti, avevano detto che avrebbero difeso alcuni principi, non le hanno difesi, quindi credo che come forza politica alle amministrative piuttosto che ad altre elezioni non potranno contare su una base elettorale che di solito si relaziona con i propri rappresentanti per alcuni punti programmatici che loro hanno tradito in serie dal giorno in cui si sono insediati. La cosa più drammatica però è quello che la collega Ronzulli sottolineava adesso, loro sono la prima forza parlamentare in Italia. Noi siamo in Parlamento eletti nel 2018, la forza più piccola tra le forze elette con il proprio simbolo in quelle elezioni. Questo Parlamento oggi è delegittimato. La prima forza parlamentare è il Movimento 5 Stelle, l'ultima Fratelli d'Italia. Non so se siamo il primo o il secondo partito italiano. Certamente oggi questo Parlamento non corrisponde a quello che c'è fuori. Allora noi riteniamo che fuori da ogni ipocrisia, prima si torna al voto, prima si dà la possibilità ai cittadini di tornare a giudicare coloro che sono in Parlamento e prima noi avremo un'Italia con un governo, quale esso sia, perché lo decidono gli italiani, che possa prendere decisioni omogenee a quello che il cittadino e il popolo vuole attraverso quel principio costituzionale che a volte viene considerato una cosa superficiale. Ma la sovranità in questa nazione deve appartenere al popolo e non può appartenere agli eletti quando entrano nei palazzi che cambiano idea rispetto a quello che hanno promesso i loro elettori. Grazie a tutti.